Oh bene, cosa abbiamo adesso? Eh, 20 euro, zero eh? Zero quasi quasi Allora, ci sarebbero appartamenti in affitto da 40 euro Poi, poi, poi 20 e anche a zero Zero, perfetto, mi sembra un ottimo inizio Bene, abbiamo un ottimo lotto in via del Colosseo Vista, bella, affitto a partire da zero euro Chi offre di più di zero? Chi offre di più di zero? Cooperativa Boots Offro due euro al mese Ben due euro al mese di partenza Cooperativa Boots due euro al mese Chi offre di più? Partiamo da due euro a questo punto La cooperativa Andovaine offre due euro e 50 Cooperativa Andovaine a due euro e 50 Due euro e 50 Chi offre di più? Chi offre di più? Due euro e 50 e uno La famiglia Catlava e la cooperativa Carmagnati offre 4 euro al mese A 4 euro la cooperativa Carmagnati, ottima offerta, ottima offerta Allora patto 4 euro e 1, 4 euro e 2 Semplice cittadino, offro 200 euro Ha giudicato cooperativa Carmagnati a ben 4 euro Grazie a tutti Grazie a tutti